buongiorno da obiettivo news oggi 25 ottobre santi crisante d'aria e si celebra la giornata mondiale della pasta un momento dedicato a uno dei piatti più amati al mondo gli italiani la amano e la mangiano almeno una volta al giorno a livello internazionale è uno dei piatti più cucinati e apprezzati a istituire world pasta day nel 1995 sono state l'unione italiana food e l'international pasta organization il 25 ottobre del 1995 40 produttori d'eccellenza hanno organizzato il primo congresso mondiale della pasta nata come un'iniziativa per celebrare le eccellenze culinarie italiane ed essere nel tempo la giornata si è trasformata anche in un'occasione per aiutare meno fortunati nel 2021 per esempio la giornata della pasta è stata dedicata a chi un piatto di questo meraviglioso piatto non può permetterselo anche quest'anno dove rincari e prezzi esorbitanti del grano hanno contribuito aumentare il già preoccupante tasso di povertà in italia e non solo e costi di pasta e pane ci sarà spazio per la solidarietà grazie a tutti Grazie a tutti.